Avete mai sentito parlare dei sensi di colpa? Del complesso di colpa? Cos'è? Io non ho sentito parlare. Poi ho chiesto a chi ne parlava cos'è, ho sentito delle spiegazioni vaghe. Ho realizzato due livelli di sensi di colpa diverse. Uno è sentirsi in colpa per avere sbagliato e lì bisogna rimediare. E se non puoi rimediare con la persona o con le persone verso le quali ti sei comportato male, puoi rimediare acquisendo come insegnamento che nella relazione quotidiana, nella vita quotidiana, nel nostro modo, nel mio, nel tuo modo di comportarsi non si ripeta quell'errore che ha fatto soffrire, ha fatto star male qualcuno e magari anche te. Poi ci sono altri sensi di colpa, quelli indotti, la coercizione, l'indottrinamento, l'imposizione, la scuola, la famiglia, la religione, dove uno magari vorrebbe andare a fare il bagno nudo ma si senta in colpa. Vorrebbe avere la polisessuale liberamente e si sente in colpa. Vorrebbe dire quello che pensa ma si sente in colpa perché quelle poche volte che è riuscito ad esprimere quello che pensava e sentiva è stato rimproverato, minacciato, picchiato e marginato. Quindi sono due tipi di sensi di colpa. Quelli che vengono dal nostro sentire, intuito naturale, quindi possiamo dire i sensi di colpa che noi generiamo e quelli che ci vengono imposti. Però che cosa succede? Che tra i due il confine non è chiaro, per cui molti sensi di colpa che noi sentiamo nostri, il senso del pudore, il senso della giustizia, la morale, la morale, vediamo che sono indotti, non sono naturali. Un bambino, le bambine che crescono soprattutto al sole a fare il bagno non sentono il bisogno di coprirsi, di coprirsi. Una volta ho fatto un esempio e qualcuno mi ha accusato di essere un manioco sessuale, ma che cosa avevo detto? Che la maggior parte di chi nasce viene allattato, mi auguro, in modo naturale dal seno materno. Quella parte del seno materno che il bambino, la bambina che cresce, il neonato, vede, sente, da qui si alimenta, poi viene negato tutta la vita. Sono dei cuari di donne seminude dove proprio i capelli devono coprire quella parte del seno. o la mano messa in modo da coprire, no? Masaccio, no? L'espulsione, il quadro dal paradiso terrestre, Eva si copre il seno, l'utero, ma che cosa? Quei sono sensi di colpa, no? Senso di colpa. Cioè quella piccola parte del corpo femminile che ti ha allattato, poi viene negativizzata, proibita, nascosta. Ci sono quelle che fanno delle foto sexy, però si mettono due stelline sui capelli. Che cosa vuol dire? Senso di colpa. Ci sono persone che si sentono in colpa perché sono vivi, in colpa perché esistono. Hanno paura di sbagliare in qualunque cosa fanno e sbagliare in colpa. Allora dicono ma io ho sbagliato, io non avevo capito, io intendevo, io pensavo, pensavo. Pensate che i latini erano molto chiari, i romani in latino, no? Stultum est dice reputavano, è cosa stolta dire pensavo. No, rifletti prima di agire. Allora come possiamo liberarci intelligentemente, volontariamente dai sensi di colpa? Capire come ci sono stati dati. Sono delle parole difficili ad esempio. Esegesi. Ma cosa vuol dire? Ho visto in un video fatto dalla Rai, l'ho visto su internet perché non guardo la Rai, ma l'hanno mandato dove un teologo dice che se gli extraterrestri, gli alieni arrivassero, la Chiesa deve cambiare la sua Esegesi. Ma cosa vuol dire? Esegesi vuol dire il modo in cui viene esposta la dottrina. Ma la dottrina cos'è? È un insieme di affermazioni imposte. E tu che cosa devi fare? Devi crederci. E se non ci credi ti senti colpa. E se non ci credi sei tu che stai sbagliando. Quindi c'è tutta una struttura mondiale divisa in varie religioni che è tutta basata sulla fede imposta. Per cui se tu non credi o fai qualcosa di diverso, anzi molti provano piacere proprio nella trasgressione, nel fare l'opposto. Una specie di capriccio, dispetto, ribellione, opposizione per poi dopo sentirsi colpo. Per poi dire oddio cosa ho fatto, che scemo, che scema, che squallido, che peccato. Cioè eccitazione per la trasgressione, lamentela, veleno per poi averlo fatto. hanno visto che la maggior parte delle ragazze giovani che rimangono incinta e non hanno usato i preservativi è perché hanno avuto, sembra una battuta, hanno avuto rapporti sessuali a un'ora in cui erano chiuse i supermercati che vendono preservativi e le farmacie. Allora qualcuno dice, no ma guarda che se vai davanti a certi supermercati, davanti a certe farmacie ci sono distributori, metti soldi, schiacci varie marche. Sì ma te le immagini una ragazza di 14, 15, 16 anni che alle 11 di sera esce, va a schiacciare, si sentirebbe in colpa. Mi hanno detto delle ragazze nel corso dei decenni, perché poi ogni tot anni, una che ha 15 anni non ce l'ha più, però no ma io sono rimasto incinta alle 2 di notte, capiva pure perché non è che una fa sesso tutti i giorni, fa sesso una volta e rimane incinta, poi aborto. Allora poi si sente in colpa per aver fatto l'aborto, si sente in colpa per aver avuto rapporti sessuali, quindi penalizza l'utero, poi cancro all'utero dopo 30 anni di sensi di colpa. Dico ma perché non hai usato i preservativi? Eh ma cosa facevo? Andavo là a chiedere i preservativi, allora pensavano questa è una che fa sesso. Quindi attenzione, no? Bisogna capire che cosa sono i sensi di colpa e come liberarsi. Usa il tuo intuito naturale, la vera morale è quella che ti dice il tuo intuito naturale, perché tanti fanno poi il ritorno all'ovile, la pecorella sbarrita. Fede, 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 poi trasgressione, o per uso di alcol, o per l'uso di droghe, o per eccitazione, vedi The Feel, leggi delle storie, o per la ricerca del piacere fisico, che può essere un fenomeno molto naturale, trasgressione, senso di colpa, poi soprattutto nel sesso. Quindi qual è la morale? Allora, se andiamo in Iran, la morale è che se tu, donna, ragazza, vai in giro con la testa coperta, sei in peccato, in peccato mortale si direbbe, cioè reato, viene arrestata. Ricevi frustate, anne di galera, poi ti violentano pure in galera questi maschi devoti di Dio. Allora com'è? Liberarsi dai sensi di colpa è una disintossicazione culturale, spirituale che ognuno deve fare. Accetta questa regola, fai tu, sbagli tu, paghi tu. Non è che tu accetti per fede o per imposizione, però sogni qualcos'altro? Quando ho letto un tempo fa che il Papa dice che i preti e le suore la devono smettere, devono smettere di guardare video porno su internet, non mi sono stupito per niente, perché c'è l'eccitazione della trasgressione. Magari non hanno la politica sua e provano a vedere i video porno, io i video porno non li guardo, perché? Perché non mi interessano. Ma che cosa mi interessa? Portare a termine questa incarnazione e poi il viaggio continua, poi proseguire, senza sensi di colpa. Adesso poi voglio fare un video chiamato rinascere per rimediare, non ti venga in mente di rinascere per rimediare, perché tra la morte e la rinascita ti dimentichi tutto, l'unica cosa che non dimentichi è la tua presenza, quindi ripeti, in ogni tempo, luogo e circostanza io sono, da sempre e per sempre io sono. In questo momento sto vivendo un'esperienza umana sul pianeta terra, ricordati il nome, il cognome, l'indirizzo, la faccia, ma è temporaneo. Nella razza bianca viene facile da dire giugno, luglio, agosto o sei più scuro? C'è il sole. Novembre, dicembre, gennaio sei più chiaro? Non c'è il sole. Cioè ma sei sempre tu? Se allora vedi una foto fatta alla fine di dicembre, una fatta alla fine di agosto, sembrano due razze diverse. Sono delle persone, ho visto che a fine agosto non sembrano di razza bianca, poi le rincontri a fine gennaio, razza bianchissima. Quindi queste varianti esistono. E c'è, ah ma ero abbronzato, ma allora la variante è, adesso hai un corpo materiale, fisico, terrestre. Non è detto che tu quando lo lasci avrai un corpo materiale, fisico, terrestre. Dipende da te, quindi liberati, a qualunque età ti trovi, non è mai troppo tardi per liberarti dai sensi di colpa. Tu sei innocente, assolviti. Se hai sbagliato, riconosci, ma non cercare di rimediare, perché tanti rinascono proprio per i sensi di colpa con cui sono morti. E magari muoiono dicendo non merito niente, sono stato un verme, un cane, un'asina. Sta' attento perché poi quello che tu pensi diventi. Quindi se hai sbagliato, riconosci ho sbagliato, mando amore e buona energia. Dal momento che riconosci che hai sbagliato, evita di ripetere l'errore, perché il più grande errore è ripetere gli stessi errori. Buon viaggio!